ciao a tutti colors e benvenuti in questo nuovo video anzitutto voglio scusarmi ma ultimamente sto avendo diversi problemi con i commenti ragione per la quale spesso vi rispondo anche con un giorno di ritardo semplicemente perché non mi arriva niente volevo invitarvi prima di iniziare il video a darmi suggerimenti per video nuovi perché io sto iniziando a esaurire le idee però ovviamente voglio portare avanti il canale mi avete detto ad esempio di fare nuovi in segreto però non mi avete dato parole gra... parole chiave quindi questa potrebbe essere l'occasione ad esempio per darmi nuove parole chiave per i miei in segreto e me ne accorgo se avete guardato tutto il video a parte gli scherzi veniamo al tema principale ho deciso dopo la visione di quello che sto per farvi vedere di aprire una nuova rubrica che così come quella dei libri sarà a cadenza temporanea quindi ho deciso di aprirla subito sarà una rubrica di consigli per gli acquisti che probabilmente chiamerò proprio così e viva la fantasia che mi è venuto in mente il giorno in cui ho trovato per caso su facebook quella pubblicità dell'articolo che ormai avrete letto dal titolo del video si tratta infatti di un particolare tipo di matite che contengono al proprio interno un seme che voi potrete estrarre e piantare proprio nel momento in cui la matita sarà finita e non sarà più utilizzabile penso che questa potrebbe essere un'idea carina non soltanto per le persone che vanno a scuola ma anche per le amiche e gli amici cartopazzi che sono numerosi su youtube e molti di questi amici guardano i miei video queste matite hanno un nome si chiamano sprout se non sbaglio caso mai correggerò ma il nome dovrebbe essere quello hanno a mio parere un aspetto molto carino che nel frattempo ovviamente vi avrò già fatto vedere e vi linko nel box info la confezione da 8 che costa circa 11,90 euro però se voi scorrete i suggerimenti di amazon potrete ad esempio scegliere la confezione da 5 perché magari utilizzate semmeno matite o magari quella la spesa di cui avete la possibilità in quel momento fatemi sapere qui sotto sia come ho detto prima parole nuove per i nuovi in segreto perché mi avete detto che mi piace come li commento e questo mi fa piacere sia altri consigli per gli acquisti che potrebbero essere utili agli altri iscritti e se trovo la cosa carina e interessante non solo per me ma anche per il mio pubblico di amici ecco magari potrei farci un prossimo video per chi non mi conosce e avviene per la prima volta su questo canale il mio nome è riccardo spero che questo video anche se breve vi sia piaciuto ma ci tenevo a mostrarvi questo prodotto non sono sponsorizzato non sono pagato chi non è iscritto se ha voglia è invitato gentilmente a iscriversi al mio canale attivare la campanellina per non perdere nuovi video sperando che non abbiate i miei stessi problemi con la posta elettronica e noi ci vediamo al prossimo video ciao